Ammonta ad oltre 3 miliardi la somma stanziata fino ad oggi per la rinascita dei centri storici nel cosiddetto cratere sismico, dove sono stati approvati ben 47 piani di ricostruzione sui 55 previsti. È il quadro che emerge dai dati forniti dal responsabile dell'Ufficio per la ricostruzione del cratere Paolo Esposito, che ha parlato di 107 progetti approvati per il repristino di opere pubbliche, mentre fuori cratere sono 637 i cantieri già attivi per la riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009. Sulla ricostruzione privata siamo 1,4 miliardi impegnati dal 2009 a oggi, intendo cratere e fuori cratere, e stimiamo di arrivare a una quota di circa 4 miliardi, quindi siamo a un 30% del percorso finanziario. Per quello che riguarda le case, su circa 26-27 mila abitazioni inagibili tra cratere e fuori cratere siamo oltre 5 mila, quindi a un 20% sul dato abitazioni. Dati e numeri che saranno disponibili nel nuovo sito dell'USRC, che verrà inaugurato entro il prossimo mese di giugno e che, oltre a contenere informazioni relative a cantieri ed opere, strizzerà l'occhio ai nuovi social media, sempre più spesso utilizzati per reperire informazioni. È la frontiera di comunicazione oggi più invasiva, Twitter, LinkedIn, sbarcheremo anche su altri, ovviamente con le dovute cautele, perché sono strumenti che vanno maneggiati quando si danno informazioni così delicate con una certa attenzione.